Buon pomeriggio, stiamo per partire con l'edizione del nostro giornale, grazie per averci preferito, vediamo subito i titoli perché c'è davvero tanta roba oggi, tra un po'. Scoperto a Cosenza la Guardia di Finanza una vera e propria fabbrica del reddito di cittadinanza, un CAF faceva ottenere il sussidio anche a chi non ne aveva diritto, una persona arrestata, ci sono 900 indagati. La Guardia di Finanza di Vibo ha scoperto illeciti per 50 milioni di Euro di crediti d'imposta fittizi per lavori inesistenti, i quali dopo una serie di cessioni a catena sono stati monetizzati attraverso il sistema di prelifizio. Paola nella notte ha mandato Riccio dove è andato in fiamma l'ufficio postale, incendio distrutta anche due auto che erano parcheggiate nelle vicinanze del locale. Sabato pre-natalizio di campionato per Cosenza e Catanzaro, il rosso-blu scenderanno in campo a Bari, l'inizio è previsto per le 16.15, mentre i giallorossi ospiteranno il Brescia, si gioca alle 14.00. Allora, buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Vi dico subito che si è appena conclusa, possiamo vedere le immagini, si è appena conclusa la riunione a Reggio Calabria nella sede del Consiglio regionale. Vedete le immagini, una delegazione di lavoratori del Bramo Customer Care e naturalmente i sindacati alla presenza del Presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto. Intanto la prima notizia, ma già da ieri sera, questo lo si sapeva, è stato prorogato di tre mesi il contratto ai lavoratori. Un gruppo di loro ha manifestato stamattina davanti alla sede del palazzo che ospita il Consiglio regionale e insieme a loro anche c'erano i tirocinanti. Più tardi è prevista una conferenza stampa del Presidente per raccontare quelle che sono le determinazioni a cui si è giunti dopo la riunione che state vedendo in questo momento. Vi terremo aggiornati naturalmente nel corso delle prossime edizioni del giornale. Tutto è in divenire, molto veloce. Dobbiamo essere rapidi anche nel raccontarvi la rabbia, la delusione, ma anche la speranza di questi lavoratori. Non molleremo questa vicenda, staremo accanto alle donne e agli uomini che lavorano in questo call center. Adesso la notizia che ha preso corpo questa mattina presto. La Guardia di Finanza, la Procura della Repubblica del Tribunale di Cosenza, hanno scoperto un giro incredibile che riguarda il reddito di cittadinanza. Una truffa consistente di 3 milioni di euro. C'è una persona arrestata e 900 indagati. Isabella Roccano. Il reddito di cittadinanza riusciva a farlo ottenere anche a chi non aveva i requisiti, trattenendo poi una parte dei soldi a titolo di corrispettivo. Al centro dell'inchiesta della Procura di Cosenza, il CAF Labor, situato nel centro storico della città. Un collaboratore, Sebastian Christian Teglas, cittadino romeno che avrebbe messo in piedi un vero e proprio mercato per far ottenere i sussidi a connazionali e altri cittadini stranieri, è finito in carcere. Altre 900 le persone indagate, tra loro il titolare del CAF, la cui posizione però è ritenuta marginale degli inquirenti e per il quale non è stato richiesto l'arresto. Le indagini condotte dalla Guardia di Finanza hanno consentito di scoprire una mega truffa compiuta tra il 2019 e il 2022 che supera i 3 milioni di euro. Nel corso delle indagini è stato così accertato che il centro di assistenza fiscale, nell'inoltrare le domande di sussidio, utilizzava in alcuni casi residenze fittizie al solo scopo di creare nuclei monofamiliari e con bassi valori di sé, oppure riportava più soggetti o nuclei familiari presso lo stesso indirizzo di residenza, in altri casi si indicavano false utenze telefoniche anche intestate a persone diverse dai richiedenti oppure a soggetti del tutto inesistenti. Un ufficio postale dell'Interna Cosentino veniva impiegato per il materiale ritiro di alcune carte del reddito. Attraverso il locatore internazionale è stato tra l'altro individuato un soggetto di nazionalità rumena familiare di uno degli indagati che percepiva il sussidio statale, anche se titolare di un'azienda agricola operativa in Romania con un volume d'affari di oltre 150.000 euro. Teglas tra il 2019 e il 2022 avrebbe gestito ben 678 domande di reddito di cittadinanza, corposa la documentazione sequestrata dai finanzieri, carte delle quali Teglas, alla vista dei militari, ha tentato di disfarsi gettandole dalla finestra. Ma non solo reddito di cittadinanza, tramite il CAF finito al centro dell'inchiesta, sarebbero state avviate anche numerose pratiche per ottenere il rilascio di redditi di emergenza e assegni familiari a favore di soggetti privi dei requisiti di legge e in molti casi residenti all'estero. Ma vediamo di saperne di più perché la nostra Rosalba Baldino ha incontrato stamattina il procuratore della Repubblica del Tribunale di Cosenza, il dottore Mario Spagnolo, che ha curato l'inchiesta. Sentite. Il cielo è pesante di nuvole quando raggiungiamo la procura di Cosenza. All'interno l'albero di Natale rimanda alle feste imminenti, ma il procuratore è al suo posto, sonora e intensa di lavoro. Nel cuore del centro storico della città dei Bruzzi, un CAF si è trasformato in un vero e proprio laboratorio per l'emissione del reddito di cittadinanza. E lo stesso procuratore a spiegarci da cosa è partita l'indagine. Noi avevamo una lunghissima serie di denunzie a carico di persone che usufruivano del reddito di cittadinanza non avendo dei requisiti. Però abbiamo pensato che invece di andare su queste persone che molto spesso sono dei prestanome oppure dei fruitori di utilità assolutamente minime, di andare alla radice e abbiamo scoperto un sistema molto collaudato per cui un CAF predisponeva false domande per la fruizione del beneficio, otteneva il provvedimento, otteneva le provvidenze economiche. Queste provvidenze venivano poi spese sempre sugli stessi esercizi commerciali. Quindi abbiamo ricostruito un giro molto cospicuo di circa 3 milioni di euro nell'arco di pochissimo tempo. I percettori del reddito di cittadinanza, per lo più stranieri, per lo più romeni, venivano accompagnati in un ufficio postale del territorio e le stesse indennità venivano spese, lo avete sentito, in alcuni esercizi commerciali, in particolare in uno store cinese. Ma quali i vantaggi del CAF? Attraverso un accordo con i soggetti dove si spendevano e si ingassavano questi soldi avevano poi il ritorno economico. In buona sostanza i fruitori del beneficio, i singoli soggetti extracomunitari o non extracomunitari, di questi soldini vedevano veramente ben poco. Un vero e proprio sistema scoperto dalla Guardia di Finanza, le cui ramificazioni si estendevano anche fuori dai confini nazionali. Questo era un servizio che riguarda appunto la truffa scoperta dalla Guardia di Finanza a Cosenza. I risultati di questa inchiesta dalla Procura della Repubblica al Tribunale di Cosenza sono stati resi noti, noti stamattina attraverso una volta un comunicato stampa, ma siamo riusciti anche ad ottenere un'intervista con il procuratore. Ancora truffe ai noi purtroppo, questa volta ci spostiamo a vivo, naturalmente presunta anche qui, una truffa che avrebbe fruttato qualcosa come 50 milioni di euro per lavori ed inizi fittizi, poi con la solita scatola cinese, i soldi li vanno a credito, insomma tutto il solito giro. Anna Franchino. Eccoli i finanzieri di Vibo mentre spulciano fra le carte per accettare i presunti illeciti sui bonus ed inizi scoperti nella provincia vibonese, a seguito di una serie di controlli effettuati dagli specialisti del nucleo di polizia economico-finanziaria. Ammonterebbe a circa 50 milioni di euro la truffa sui crediti d'imposta per lavori mai eseguiti nei confronti di diverse società operanti nella provincia vibonese che hanno incassato i fondi previsti e stanziati dal governo sotto forma di ecobonus, sisma bonus, bonus facciate e bonus ristrutturazioni. In particolare dall'analisi dei cassetti fiscali è emerso per gli investigatori che le società attive in diversi settori hanno generato decine di milioni di euro di crediti d'imposta per lavori edilizi mai eseguiti. Ai titolari o rappresentanti legali delle ditte o società sottoposte a controllo, pertanto, sono stati contestati illeciti per crediti d'imposta inesistenti, generati, ceduti e monetizzati, in relazione ai quali l'Agenzia delle Entrate provvederà ad emettere immediati atti di recupero. Oltre agli illeciti individuati sono state contestate anche numerose violazioni alla normativa fiscale connesse al mancato rispetto delle norme tributarie dichiarative. Sono in corso però ulteriori accertamenti sulla destinazione finale delle somme di denaro ottenute e sul loro eventuale reimpiego in attività economico-finanziarie o speculative. Adesso mi collego con Arcangelo Badolati perché parliamo di Reset. ieri ci sono state le richieste del Pubblico Ministero che fa riferimento agli indagati che hanno scelto il rito abbreviato. Arcangelo, sono venute fuori una serie di richieste con danni anche pesanti. Al Maxi Processo Reset è certamente riconducibile la notizia delle ultime ore, cioè il ritrovamento da parte dei carabinieri e della compagnia cittadina diretti dal tenente colonnello Antonio Quarta, questo è un fatto molto importante, di 389 mila Euro in contanti che erano riposti in un trolley scovato in casa di un disoccupato. Salvatore Guido, ex cognato di Roberto Porcaro, il boss che ha inscenato un finto pentimento e che si trova imputato nel Maxi Processo Reset, per il quale ieri la procura distrettuale antimafia ha chiesto 20 anni di reclusione. Il processo si collega a tutto questo denaro perché capite bene che il denaro liquido in casa di un disoccupato nel pieno centro di Cosenza sotto Natale potrebbe rappresentare due cose, o una parte del tesoretto che Porcaro aveva nascosto o probabilmente il denaro, questo non lo escludono gli inquirenti, drenato in questo periodo natalizio perché sapete le estorsioni si pagano a Natale, a Ferragosti e a Pasqua, drenato in questo periodo, quindi la bacinella dei clani, denaro probabilmente destinato ai carcerati, al pagamento degli avvocati, insomma in queste ore si sta lavorando allecramente, i PM antimafia Vito Valerio e Corrado Gubelotti e il procuratore vicario di Catanzaro Vincenzo Capomolla stanno studiando bene le carte di questa storia, il blitz dell'arma è stato un blitz improvviso. Torniamo a Reset, ieri 120 condanne, tantissime, le più alte sono state richieste per i maggiorenti delle cosche confederate cosentine, tra questi… Si è bloccato il collegamento, vediamo se riusciamo a ripristinarlo immediatamente oppure andiamo avanti magari e poi recuperiamo… Eccolo qua, eccolo qua siamo. Sono delle peggine, sì sì, dicevo Adolfo D'Ambrosio… Dovresti… ecco, dovresti… ecco, perfetto, perfetto. Dicevo, le pene più alte sono state chieste per i maggiorenti delle cosche confederate, Adolfo D'Ambrosio, Francesco Patitucci, Umberto e Michele Di Puppo, per tutte le richieste della condanna a 20 anni, ma il massimo della pena è stata richiesta anche per Ergastolani, cioè per personaggi della criminalità cosentina che sono in carcere da tempo, tra questi Ettore Lanzino, solo per fare il nome del più noto, ma Gianfranco Roa, Gianfranco Bruni, processo che naturalmente adesso entra nella fase finale, le aringhe difensive ci saranno a gennaio, credo che la sentenza interverrà entro qualche mese. Tra le richieste di condanna figurano quelle dell'assessore comunale di Cosenza in carica, Francesco De Cicco, per cui sono stati chiesti, mi pare, 4 anni e 7 mesi. A te la lina, direttore. E adesso andiamo invece a mandato Riccio, dove ci sono stati momenti di paura, di tensione nella tarda serata di ieri per un incendio che si è sviluppato all'interno dell'ufficio postale della cittadina. Bisogna capire se è di origine dolosa oppure no, ma questo lo stabiliranno gli inquirenti. Intanto c'è da dire che sono andate distrutte anche due auto che erano parcheggiate nei pressi dei locali che ospitano l'ufficio postale. Paolo Tararico. Il fuoco è quella vissuta a mandato Riccio, centro del basso Ionio Cosentino, ed il bilancio parla di un ufficio postale distrutto, due macchine danneggiate ed un intero edificio inagibile. Un incendio, sulla cui origine stanno svolgendo i loro accertamenti delle forze dell'ordine, ha praticamente distrutto il primo piano di un edificio che, come detto, ospitava l'ufficio postale della cittadina Ionica, che tra l'altro era stato recentemente ristrutturato. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il distaccamento di Corigliano Rossano con il supporto degli autobotti e degli agenti del comando di Cosenza. Le fiamme si sono poi estese a due autovetture parcheggiate nel piazza dell'antistante danneggiandole, ma in generale è l'intero locale a essere stato danneggiato. È stato infatti evacuato l'appartamento collocato al piano superiore della sede dell'ufficio postale, che era abitato da una persona. Fortunatamente, però, nessuno è rimasto ferito. Come detto, le forze dell'ordine stanno lavorando per capire l'origine del rogo. Alcune persone avrebbero riferito, attorno alle tre e mezza della notte, di aver sentito una forte esplosione all'interno del fabbricato. Inoltre, secondo le discrezioni, sarebbero state rinvenute due bomboe di gas. Al momento, però, gli inquirenti sono al lavoro e nessuna ipotesi viene esclusa. Momenti difficili, di preoccupazione, ha mandato Riccio. Andiamo adesso a Martone, dove è stato allestito, un albero di Natale. Vedete le palle di Natale? Su ogni palla di Natale c'è un nome. Sono i nomi delle donne vittime di femminicidio. Questo è il segnale che parte da Martone. Lo salvo a Paldino. Marisa Leo, il nome leggibile sulla pallina rossa dell'albero di Natale a Martone, nel Catanzarese. Ogni nome, una storia di femminicidio. Ogni nome ricorda una vittima. Marisa aveva 39 anni e è stata uccisa a Marsala. L'albero nella piazza del paese, accanto alla panchina rossa, segno dell'impegno contro la violenza alle donne. Più di cento i nomi sono quelli di un'emergenza italiana nel solo 2023, l'iniziativa voluta dall'amministrazione comunale. Accanto all'albero, anche il tradizionale presepe, perché Natale, festa cristiana, un bimbo che nasce, simbolo di speranza in un futuro migliore, in un futuro che veda uomini che, sull'esempio di Giuseppe, sappiano essere faro nelle famiglie. Questa è l'amministrazione comunale, ha voluto sottolineare questo fenomeno che purtroppo dilaga in Italia e nel mondo, ma per dare un segnale ai bambini, alle nuove generazioni sul significato di questa panchina rossa e di questa pallina rossa. E adesso l'orafo, il maestro Michele Affidato, ci porta dentro il Vaticano in questo appuntamento un concerto per i poveri e ci fa anche incontrare Papa Francesco. Isabella Roccano. Senza tetto, migranti e marginati, loro gli ospiti d'onore del tradizionale concerto con i poveri e per i poveri, iniziativa solidale organizzata in Vaticano da Nuova Opera, un evento da sold out, presente oltre 3.000 persone alla quarta edizione del concerto, benedetto da Papa Francesco, invitati a partecipare attraverso il Dicastero per il servizio della carità e le numerose associazioni di volontariato che li assistono quotidianamente. Prima del concerto, il Papa in udienza privata nella Sala Clementina ha ricevuto i sostenitori dell'evento e l'orafo calabrese Michele Affidato che insieme al figlio Antonio ha consegnato al Papa un basso rilievo in argento raffigurante la celebre resurrezione di Perigle Fazzini che sbette all'interno dell'aula Paolo VI. Opere che sono state commissionate e realizzate anche per la direttrice d'orchestra Speranza Scappucci, per il maestro Monsignor Marco Frisina, per il maestro Cirovisco, per il soprano Maria Grazia Schiavo, il tenore Levi Sagafane, l'orchestra e il coro del Teatro dell'Opera di Roma. Creazioni consegnate durante il concerto svoltosi nell'aula Paolo VI. Si consolida dunque sempre di più il legame tra la Santa Sede e Michele Affidato che nel corso degli anni è stato ricevuto più volte dagli ultimi tre pontefici. Molte sue opere di arte sacra realizzate per chiesi e autorità religiose sono state benedette da Papa Giovanni Paolo II, Papa Benedetto XVI è da Papa Francesco e le creazioni di Affidato donate ai pontefici sono diventate patrimonio artistico della Santa Sede. Quello con il Santo Padre, ha detto Michele Affidato, è stato un incontro ricco di emozioni. Dopo lo spettacolo musicale è stata distribuita a Bisognosi una cena calda e alcuni generi di conforto. Papa Francesco ha voluto ringraziare così tutti i sostenitori dell'evento. Vi ringrazio perché coinvolgendo tanta gente voi riuscite a offrire un concerto gratuito a migliaia di persone e di gente. Con la musica offrite un momento di incontro, di condivisione e poi il pasto e le coperte in una parola fraternità. In questo momento il Consiglio regionale ha approvato il bilancio per 6,5 miliardi di euro. Di questa somma, pensate bene, oltre il 66% è assorbito dalla sanità. In pratica pochi spiccioli sono ancora liberi, cioè non vincolati, non impegnati per altre cose, intorno a 800 milioni di euro. Questo è quello che ha a disposizione il Consiglio da disposizione aggiunta per muoversi, per progetti, per idee, per programmare il futuro. Questo è il bilancio approvato dalla maggioranza pochi istanti fa. Ancora per il Natale guardate che cosa è stato preparato per i pazienti del reparto pediatrico. Siamo all'ospedale civile dell'Annunziata, oggi preso d'assalto dai supereroi. Vediamo. I leggendari supereroi dei fumetti e dei cartoni animati si calano dal tetto dell'ospedale Annunziata di Cosenza. Anche quest'anno, in occasione del Natale, si ripete il magico incontro con i bambini del reparto di pediatria dell'ospedale cittadino. Ecco la terza edizione di supereroi in bolo, Iron Man, Hulk, Superman, Capitano America, Batman, Flash, Aquaman. Dopo essere scesi dal tetto, percorrono i corridoi dell'Annunziata fino alle stanze dei piccoli pazienti. Per loro, doni, sorrisi e abbracci. L'iniziativa è il frutto della sinergia tra l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso, il comitato spontaneo degli operatori economici di Cosenza e alcune associazioni della città come Il Mio Blu, Io Noio di V, Mission Life e Nichia Apri dei Gatti. Con loro anche il centro studi danza di Antonella Cesari e soluzioni in quota. Un modo per far sentire la presenza e la vicinanza ai piccoli eroi che lottano contro la malattia e le loro famiglie che trascorreranno queste festività in ospedale. Bella iniziativa a questi bambini supereroi, questo momento di gioia in un luogo dove si soffre, c'è la sofferenza, il ricovero in ospedale. Questi bimbi in una Natale che si appresta ad essere celebrato in tutte le case, in tutte le famiglie. Cambiamo adesso decisamente argomento, parliamo di sport, parliamo di calcio, domani si torna in campo, la gara praticamente a ridosso di Natale, la Serie B con Cosenza e Catanzaro impegnate, Cosenza in trasferta a Bari, il Catanzaro invece riceve il Brescia. Due partite importanti che segneranno anche quelli che, anzi, rafforzeranno quelli che sono gli obiettivi delle due compagini calabresi. Paolo Talaricco. Ogni match è quasi diventato un esame per il Cosenza che dopo il Parma si trova di fronte ad un'altra delle squadre potenzialmente più forte del campionato, ovvero il Bari. Il pareggio casalingo contro la capolista ha ridato fiducia ad una squadra che nelle ultime settimane sembrava aver perso la sua identità. La scelta del 3-5-2, probabilmente scaturita dalla necessità, continuerà su questa strada. Però è un sistema di gioco, ripeto, che possiamo continuare perché in questo momento la squadra ha bisogno di solidità, ha bisogno di tranquillità dal punto di vista in alcuni momenti, in alcuni precedenti della partita, però ripeto, il sistema di gioco conta relativamente, dipende gli interpreti, dipende le caratteristiche dei singoli. Non sarà certamente una gara semplice, il Bari non ha iniziato il campionato nel migliore dei modi, ma Caserta non si fida. Sappiamo tutti l'anno scorso per 30 secondi, un minuto, non è andata in Serie A, quindi all'inizio ha pagato tantissimo. Questo è quello che è successo l'anno scorso, perché ripartire dopo una delusione del genere non è mai facile. È una piazza importantissima, una società solida, forte. Secondo me io sono d'accordo con il fatto che ho sentito anche che sotto alcuni punti di vista è più forte rispetto all'anno scorso. All'esatto posto del Cosenza il Catanzaro era reduce da tre vittorie consecutive, quando nello scorso turno è arrivata la sconfitta contro l'Ascoli. Un capò quasi inatteso, ma dal quale ripartire per continuare a stupire. In vetta si sono fermate quasi tutte, la quarta posizione solitaria è rimasta nelle mani dei giallorossi. Nel match prenatalizio il Catanzaro attende alla vista del Brescia, una squadra che non perde praticamente da un mese e mezzo e che nell'ultime tre ha portato a casa sette dei nove punti a disposizione, battendo Sampdori e Como. Al dà degli avversari però è il Catanzaro che deve mettersi alle spalle, parentesi di Ascoli, e tornare ad essere quella squadra che finora ha stupito tutti. Quello scorso turno è stato certamente un passo indietro, ma chiudere l'anno al Ceravolo con una grande prestazione sarebbe un regalo di Natale, tanto gradito quanto opportuno. Queste allora le attese, le aspettative delle due compagini, ricordo domani, quindi in campo poi torneranno ancora a misurarsi sul terreno di gioco subito dopo, anzi nel giorno di Santo Stefano. È tutto per questa edizione del giornale, vi lascio adesso all'appuntamento con Palla al Centro, si parlerà di sport, di calcio, con le informazioni ci vediamo più tardi, grazie, arrivederci. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio sulle coste molte nubi con deboli piogge, in montagna cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. In serata, sulle coste, cieli molto nuvolosi o coperti. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Le borse europee proseguono poco mosso a metà seduta, mentre il future di Wall Street viaggiano deboli. A Milano il Fuzzimi è invariato, il DAX di Francoforte meno 0,2%, l'IBX 35 di Madrid e il CAC 40 di Parigi meno 0,1%, i Fuzzi 100 di Londra più 0,1%. L'attenzione resta concentrata sulla pubblicazione nel pomeriggio di un indicatore chiave dell'inflazione statunitense. In particolare, gli investitori prevedono un indice dei prezzi delle spese per consumi personali a stelle strisce in rallentamento al 3,3% di novembre dal 3,5% del mese precedente. Una lettura che, unitamente ai dati di ieri che hanno evidenziato il raffreddamento dell'economia americana, potrebbe rafforzare l'aspettativa di tagli e tasse di interesse da parte della Fed per il prossimo anno. Per quanto riguarda l'Europa, a dicembre e in Italia l'indice relativo al clima di fiducia nei consumatori è salito a 106,7 rispetto ai 103,6 di novembre e 104 punti del consensus. Sul Forex l'euro-dollaro si mantiene a quota 1,1 e il cambio tra biglietto verde e yen a 142. Ancora rialzo il petrolio con il Brent più 0,7% a 80 dollari e il VTI più 0,9% a 74,6 dollari. Sull'obbligazionario lo spread BTP Bund oscilla a 161 punti, con il rendimento del decennale italiano a 3,57%. Tornando a pezzo affari, prosegue in betta Telecom Italia a più 1%, bene come Diasor in più 1% ed Eni più 0,7, in coda Amplifon meno 1,2, Moncler meno 1% e Banco BPM meno 0,8%. Grazie e al prossimo aggiornamento!